È la differenza della legislazione in cui vengono analizzati i tamponi. Ad esempio noi in Italia in caso di un positivo a Covid viene analizzato il primo tampone in caso che il paziente è positivo deve stare in casa i 10 giorni, poi viene chiamato dall'Asla a fare il secondo tampone e qualora fosse negativo lui è abilitato al lavoro. In Svizzera invece ti fanno il primo tampone, se te sei positivo stai a casa 10 giorni e dopo 48 ore dai passati 10 giorni se non hai sintomi puoi andare a lavorare di tua spontanea volontà senza alcun secondo tampone fatto. Il problema nasce purtroppo che noi qui in Italia, specialmente sul nostro territorio, abbiamo un ritardo da ricevere l'analisi del risultato del secondo tampone. Addirittura noi abbiamo pressione, tanti frontalieri mi chiamano perché non arrivando la risposta all'esito del secondo tampone non possono andare a lavorare in Svizzera. I loro datori di lavoro gli mettono pressione, alcuni vengono anche minacciati di licenziamento perché purtroppo si assentano dal lavoro più di tre settimane. Purtroppo attualmente dal secondo tampone c'è gente che lo sta aspettando anche da più di una settimana perciò vuol dire che dopo i 10 giorni trascorsi, se viene chiamato dopo i 10 giorni perché risultano magari chiamati anche dopo 13, 14, 15 giorni a fare il secondo tampone c'è un ritardo che la gente si assenta dal lavoro anche più di un mese.